nostra seconda ora con un ospite molto gravito ai nostri microfoni di radio fermo 1 che è paolo bertin ciao paolo ben arrivato eccomi grazie grazie a tutti qua come come la va molto bene diciamo molto bene sì in questo periodo si si corre si lavora però siamo felici di poter essere a questi microfoni oggi e beh che si corra e si lavora diciamo che è una cosa molto importante in questi in questi periodi diciamo che paolo è ai nostri microfoni lo presentiamo un attimino per solo quelle pochissime persone che non conoscono lui è un agente sara assicurazioni di fermo ed è qui in qualità di rappresentante della dell'omonima agenzia bertin che è da anni rappresentata e diciamo che danni rappresenta la simbiosi tra sara assicurazione e agi fermo ecco adesso io sono di solito quello che si mette qua e così come come i bambini che ascoltano e non ne so niente illustrami il tuo meraviglioso mondo c'è da dire molto ma questo è un mondo molto vasto però noi come avevi detto tu prima per coloro che non ci conoscono siamo l'agenzia che si occupa di assicurazioni e di pratiche auto diciamo in genere come servizi all'automobilista a 360 gradi quindi i passaggi di proprietà i bolli auto quindi bene o male molte persone ci conoscono anche per questo motivo e qualsiasi pratica legata appunto al mondo dell'auto e nelle assicurazioni gestiamo sostanzialmente praticamente tutti i rami assicurativi il cliente che ci conosce sa benissimo che una volta entrato in questa scienzia normalmente può svolgere tutte tutte le sue esigenze in un unico ufficio perché i nostri uffici sono a viale trento al palacristallo dentro al palacristallo e quindi sia per quello che riguarda le assicurazioni sia per quello che riguardano le pratiche in questo mondo noi siamo diciamo uno dei riferimenti del fermano da molti molti anni diciamo dal 1997 almeno nel binomio sarà ACI e dal 1962 nell'ambito assicurativo quindi nasciamo assicuratori e poi abbiamo allargato i nostri servizi anche al mondo ACI beh diciamo che hai appena nominato una data che mi lascerebbe pensare che proviene questa cosa da qualcuno che in questo momento se la godi diciamo il successo e poi neanche tanto poi neanche tanto perché tecnicamente sta sta sempre al mio fianco assolutamente sì è in campo più di prima no no a parte gli scherzi ci tengo tantissimo parliamo di mio padre e lui è sì è vero è molto bella questa cosa lui è ancora sostanzialmente uno dei miei bracci desti perché non ne ho soltanto uno però è sicuramente diciamo una colonna portante dell'agenzia le sue esperienze la sua il suo modo di fare per chi lo conosce poi può confermarlo è sicuramente un elemento essenziale di questa nostra famiglia perché la nostra è una famiglia perché la Sara Assicurazioni è gestita da me e da mia moglie con l'aiuto di mio padre e la stessa cosa l'aci dove c'è mia sorella Simona Simona Bertin che è la titolare della delegazione ho capito diciamo che comunque se adesso dovessi un attimino immedesimarti nella persona adesso di tuo padre sicuramente la cosa che ci direbbe contraddicimi se non è così quando si iniziava fin dai primi tempi a stipulare le prime le prime polizze ad oggi ne è passata di acqua questo lo dice lo dici realmente come da reddorto no no assolutamente ma poi quante quante cose sono passate e quante cose sono cambiate nell'arco del tutti questi anni è cambiato anche il modo di approcciarsi al cliente il cliente oggi più istruito più informazioni bene o male come i media e con con tutto quello che oggi ha a disposizione oggi con un cellulare possiamo fare miracoli quindi le cose sono ovviamente cambiate però bisogna sempre stare a passo con i tempi che è una caratteristica che da sempre ci deve e ci contraddistingue e anche grazie a questo modo di ragionare di operare riusciamo a stare diciamo sulla cresta se vogliamo da tutti questi anni quindi tecnicamente per noi è molto importante cercare di restare al passo anzi a volte anche anticiparlo ma allora paolo siccome comunque siamo siamo in una diretta radiofonica e dobbiamo in qualche maniera raggiungere i nostri radioascoltatori e farlo nella maniera più fruibile possibile soprattutto più chiara possibile innanzitutto la cosa che penserei giusta di fare è dividere le due cose magari parliamo prima di una poi parliamo subito dell'altra così non facciamo confusione andiamo dritti comunque sia al punto beh allora per quello che riguarda il mondo assicurativo bene o male per chi ci conosce già magari sono cose già sanno però noi operiamo come dicevamo prima su tutti i rami assicurativi e noi siamo da sempre essendo appunto questo non abbiamo detto forse è meglio dirlo che siamo la compagnia ufficiale dell'automobile club quindi c'è anche a livello istituzionale c'è un rapporto fra queste due società sono vivono praticamente in simbiosi ok e noi siamo da anni un riferimento e vorrei questo vorrei far passare anche come messaggio a chi non ci conosce abbiamo la possibilità di trattare il cliente nell'ambito il primo che adesso mi è venuto in mente che il mondo auto perché più legato al mondo agi oltre che poterlo gestire come dicevamo prima nella totalità ma lo possiamo gestire anche dal punto di vista economico con delle sicuramente delle tariffe le chiamerei dedicate che sono sicuramente di favore in questo momento siamo posizionati molto molto bene sul mercato e sfido chiunque a poter fare una prova su questo e quindi ci interessa e ci preme sicuramente farci conoscere da coloro che ancora non ci conoscono da questo aspetto ma tecnicamente poi noi avendo ripeto tutta la totalità dei rami assicurativi potremmo svariare su situazioni dove in questo momento c'è molta molta attenzione che è il mondo covid esatto e noi in questo momento in qualità di assicuratori dobbiamo mettere in condizioni le persone di essere sicure e tutelate anche per la principale situazione di preoccupazione che vive il momento che è appunto il covid quindi noi siamo abbiamo la possibilità abbiamo studiato più di una soluzione assicurativa per questo e quindi sia il privato o sia l'azienda che vuole diciamo restare con un respiro economico più diciamo vuole restare a galla per una situazione magari che l'ha visto tenere chiuso per contagio avvenuto nella sua azienda e quindi una chiusura a quel punto forzosa non più come un lockdown che ti permette altri tipi di uscite ecco in questo caso qui noi veniamo incontro dando una diaria a questa questa azienda una diaria una somma al giorno quindi significa l'azienda la sceglie e noi la indenizziamo sia nel caso in cui il covid sia stato diciamo abbia avuto un contagio sia il titolare che i suoi familiari conviventi sia uno dei suoi dipendenti qualsiasi sia o suoi familiari conviventi dei dipendenti e oltre a questo poi abbiamo studiato per i privati oltre a una diaria anche in questo caso per il privato anche un costo diciamo un forfettario e che si può scegliere fra varie formule e in caso di terapia intensiva quindi noi le andiamo a dare proprio una una somma nel caso si finisse purtroppo nelle grinfie del covid ecco questo per sopperire in qualche modo alle spese che comunque sia perché gestisce un'azienda o una famiglia è costretto comunque ad avere indipendentemente forse anche maggiorate mentre purtroppo non può chiaramente portare a casa il guadagno che un'attività chiusa non può garantire questo per quello che riguarda diciamo il covid però io non sposterei esclusivamente l'attenzione su questo perché comunque sia i nostri servizi sono veramente tantissimi e per quello che riguarda ad esempio sempre il mondo assicurativo noi siamo una compagnia che può assicurare anche ad esempio il terremoto e non sono molte le compagnie a poterlo vantare questo questo servizio e siamo una delle pochissime che lo fa assicurando il fabbricato fino al cento per cento quindi significa che io posso tenere in bene la mia abitazione completamente a seguito di danno non solo una porzione come normalmente accade quindi è sicuramente un livello di protezione più alto quello che noi vogliamo dare perché ci differenzia da quello che è attualmente il mercato in genere quindi questa qui è un'assicurazione dedicata per il terremoto sia sull'abitazione privata sia ma sia l'abitazione privata sia anche in un condominio quindi lo possono scegliere anche una probabilità di assicurare di non per forza la singola famiglia ecco lo può fare chiunque tutti coloro che hanno un fabbricato da tutelare anche attività anche attività assolutamente sia negozi sia attività professionali che di servizi insomma tutto ciò che ha a che fare con un fabbricato da voler tutelare a seguito del terremoto ok e ho detto solo un esempio parlato di terremoto il terremoto purtroppo noi ogni anno bisestile abbiamo una sfiga quindi bisogna dirlo nel 2016 abbiamo avuto il terremoto quest'anno che bisestile abbiamo avuto il covid speriamo che se la finissano qua perché non pensiamo al 2024 non ci pensiamo non ci pensiamo perché comunque è lunga quindi non bruciamoci le tappe benissimo e allora molto molto adesso abbiamo parlato della parte covid va beh molto interessante sicuramente tutti i nostri radioascoltatori sicuramente avranno addrizzato un attimino le antenne perché perché ovviamente siamo vicini a tutte le persone che sono interessate direttamente però diciamo che ogni mattina ci svegliamo con questa spada di damocle sulla testa pronta pronta perché comunque però arriviamo a sera magari è andata bene e andiamo avanti questo per quanto riguarda il covid perché prevenire è meglio che curare no come si dice certo ed è stata ovviamente una utilissima informazione che ovviamente voglio esortare voglio sicuramente invitare tutti i nostri radioascoltatori a prendere contatto magari con a prendere contatto che poi lasceremo sia adesso in maniera in maniera audio ma poi la lo scriveremo anche all'interno del nostro del nostro sito con tutti i link per per raggiungerti al telefono attraverso i tuoi mezzi di comunicazione poi abbiamo parlato della della parte ok terremoto che certo noi viviamo a pochissimi chilometri da un'importante faglia quindi è una cosa che non possiamo dire matematicamente ne saremo fuori per sempre andiamo verso l'ambiente ACI diciamo per quanto riguarda l'assicurazione sull'assicurazione possiamo dire che proprio in questo periodo oltre al discorso mi riallaccio al discorso covid oltre al prodotto sestante si è dato apposta adesso c'è proprio in questi giorni una promozione i nostri che sono già clienti e riceveranno anche un messaggio da parte della nostra compagnia che gli ricorderanno che c'è un'iniziativa invece proprio legata al monto rc auto quindi coloro che hanno una polizia di un'autovettura di un autocarro comunque di un mezzo adibito alla circolazione per il quale è possibile assicurarsi proprio per il covid all'interno della polizia rc auto solo ed esclusivamente covid mentre le soluzioni che abbiamo appena detto prima che parlavamo di covid sono comunque situazioni che vanno ad essere come posso dire il covid non è altro che un'estensione una copertura già di base che riguarda l'intera malattia quindi intero stato di salute del cliente infortuni o malattia che sia e in questo caso invece nasce esclusivamente a un costo praticamente zero perché di questo stiamo parlando a un costo praticamente dico praticamente perché simbolicamente di un euro fisicamente proprio di un euro noi possiamo assicurare i nostri già clienti con un euro per quello che riguarda la possibilità di una diaria da covid solo covid non per altre situazioni e per coloro che vogliono diventare i nostri clienti con una differenza che è probabilmente prossima al raddoppio di un euro quindi niente paolo per te parlare di diaria è come parlare del si hai ragione capito del latte schiumato sul cappuccino per il barista per una persona che di diaria si ricorda soltanto il diario a scuola faccio un breve scorso raccontaci che cos'è questa diaria non è altro che in modo in gerdo assicurativo una somma una somma quotidiana una somma che viene indennizzata pagata per ogni giorno in questo caso stiamo parlando di covid e quindi di di ricovero a seguito di covid questo questa diciamo questo euro che costerebbe questa garanzia simbolico un euro ovviamente serve a tutelare i clienti solo in caso proprio ricovero di istituto di cura mentre per quanto riguarda anche il riposo forzoso a casa a seguito di contagio quindi non occorre andare in istituto di cura beh quello faceva parte della della somma al giorno all'interno della prima soluzione di cui abbiamo parlato che è quella che contempla tutti i problemi a livello di salute quindi non soltanto da covid ma anche da covid la prima di cui abbiamo parlato capricci adesso è molto più è molto più facile posso anche aggiungere che è una diaria e sentasse quindi il cliente che la riceve non deve naturalmente pagarci sopra l'imposta a questo inizio ok andiamo sul binario sul binario ACI la delegazione siamo anche ripeto conosciuti soprattutto forse anche per per il per l'ACI perché noi effettuiamo circa 15.000 bolli all'anno quindi vediamo entrare una moltitudine di persone i nostri uffici ricordo colgo l'occasione apro chiudo le parentesi che adesso dal primo di gennaio al 31 di gennaio si aprirà la finestra che per ora non è stata prorogata quindi un'informazione di servizio questa è una finestra per il rinnovo di tutti i bolli delle autovetture non parliamo altro che di autovetture in questo momento quindi non di autocarri e per quello che riguarda dicevamo le scadenze di dicembre 2020 quindi normalmente quando c'è il periodo covid abbiamo già assistito in passato durante il lockdown specialmente che anche la regione Marche si è diciamo adattata a quello che hanno fatto anche altre regioni d'Italia cioè di prorogare una scadenza la finestra di pagamento di una scadenza del bollo in questo caso non è accaduto quindi per ora a meno che non ci saranno novità speriamo di nuovo dire che le cose vanno bene e a livello diciamo di contagi parlo e a quel punto quindi vi invito le persone al rinnovo del bollo auto per evitare sanzioni perché dal primo febbraio naturalmente scatterebbero per coloro che non hanno fatto entro il termine ultimo del 31 gennaio dicevamo la delegazione ACI si occupa oltre che di bollo auto di tutte le altre pratiche diciamo rinnovi di patente ad esempio è uno dei servizi che facciamo a uno dei prezzi più concorrenziali in assoluto dell'intero mercato perlomeno del fermano che noi possiamo osservare e così come i passaggi di proprietà e così come anche altre pratiche un pochino più di nicchia come potrebbero essere ad esempio le esenzioni per le auto diciamo coloro che hanno a che fare con la vendita di veicoli e le esenzioni dei bolli le esenzioni dei veicoli e poi in realtà potrei elencarne ma ne sono davvero tantissimi servizi quelli più importanti sono comunque questi nonché ultimo il mondo ACI vive l'ACI stessa vive per ciò che riguarda l'assistenza stradale perché ACI l'acronimo è appunto quello no? Automobile Club d'Italia. Automobile Club d'Italia fa da sempre questo corso. Quindi noi abbiamo la possibilità attraverso la sottoscrizione di una tessera la cosiddetta tessera ACI che quest'anno è anche anche in questo periodo di covid stiamo venendo incontro ai clienti con una scontistica dedicata quindi venite a scoprirla e permettiamo al cliente di avere un'assistenza stradale 24 su 24 in Italia e anche in Europa non solo al socio cioè colui che la sottoscrive questa tessera ovunque lui si trovi perché può essere sia conducente che trasportato di veicoli di proprietà e non noi l'assistenza dove lui si sta trovando in quel veicolo diamo l'assistenza gratis ma anche alla targa dichiarata in tessera perché la tessera ha una targa associata quella targa indipendentemente se a bordo si trovi il socio stesso di questa tessera è comunque assistita per chiunque si trovi alla sua guida quindi per capirci e fare un una breve riassunto io Paolo Bertino ho una tessera ACI con la targa della mia macchina se mia moglie in quel momento un mio amico stesse guidando perché gli ho prestato la mia macchina io stessi su un'altra vettura che non sia la mia in quel momento se tutti e due avessimo bisogno di un soccorso stradale l'ACI lo darebbe gratis ad entrambi perché subiamo sia la targa che la persona quindi però non non facciamo confusione non è cedibile no non è cedibile questo arrivava questo arrivava come messaggio allora no non è cedibile possiamo dire però che è possibile questo sì di sottoscrivere sin dall'inizio questa tessera anche su veicoli non di proprietà ciò vuol dire che se io volessi mettere per ottimizzare i costi all'interno di una famiglia e volessi mettere la tessera ACI a nome mio e però la targa dichiarata dentro quella di mia moglie normalmente le donne tendenzialmente tendono a guidare maggiormente il proprio mezzo non si spostano anche con quello del marito tendenzialmente non voglio dire che sia sempre così però statisticamente noi che lavoriamo di statistiche vediamo questo e quindi nel momento in cui mia moglie dovesse per bisogno del soccorso stradale ce l'avrebbe sulla sua vettura e io ce l'ho comunque in qualità di socio perché la tessera è intestata a nome mio quindi con una fava avrego i piccioni allora adesso ti faccio una domanda perché magari come dicevamo prima tu tutto il giorno hai a che fare con queste cose per te è la cosa più normale del mondo ci sono delle persone che per fortuna hanno bisogno del soccorso ACI pochissime volte e magari tra una volta che ti è capitato e la prossima volta ti capita tanto tempo dopo dimentichi la dinamica perché tu sei lì in panni sulla corsia d'emergenza magari in una in una posizione un po strana vai in panico sono d'accordo ecco quindi fondamentalmente i tre punti salienti per la prima cosa da fare è tenere sempre a mente tenerlo sul cellulare il numero verde da fare perché quella è la prima cosa che c'è da fare prima ancora di andare in ansia tanto si risolve il problema naturalmente quindi il numero da fare è sempre 803 116 questo è un numero questa informazione di servizio da tenere a portata di mano parlo per chi è sogio il soccorso l'acido è anche chi non è sogio ma è pagamento naturalmente sto parlando di assistenza gratuita attraverso la sottoscrizione di quella tessera se siamo soci fare questo numero significa avere la certezza di avere l'assistenza nell'arco di una mezz'oretta circa statisticamente ecco all'incirca entro 30 minuti anche in autostrada quindi la prima cosa da fare è avere il numero a portata di mano e ricordarsi quello basta controllarlo il numero di targa del veicolo sul quale stiamo in questo momento basta ci pensare all'acea dare la possibilità di o portare diciamo compatibilmente col tipo di danno col tipo di guasto è possibile prevedere sia la riparazione sul posto se il tipo di danno lo permette o il rientro anticipato che adesso spiegheremo che cos'è perché un pochino più particolare come situazione oppure il traino o recupero del veicolo quindi il mio veicolo fosse sulla sede sulla sede stradale fosse rimasto e ha semplicemente un guasto perché ho terminato la benzina posso chiedere all'aci il soccorso stradale loro verranno capiranno quale è il problema io lo dirò chiaramente al telefono prima porteranno la benzina non pagherò se sono socio aci il costo della mano d'opera pagherò soltanto il costo della benzina che mi hanno magari portato se il veicolo invece sperando mai fosse al di fuori della sede stradale questo si chiama recupero quindi verranno con un attrezzo apposta per recuperare il veicolo e riportarlo sulla sede stradale e l'altro servizio invece che sono sostanzialmente i principali sono tre traino recupero e riparazione sul posto e il traino significa che mi porteranno la vettura alla più vicina officina aci se però io avessi sul veicolo un guasto di almeno sei ore di mano d'opera quindi la valutazione deve essere fatta sempre dall'officina dell'aci e quindi un cambio rotto un semiasse quindi qualcosa di grave magari in questo caso io ho la possibilità di poter far trainare il veicolo se è oggetto diciamo di tesseramento quindi il veicolo che avevo dichiarato in tessere in questo caso perché è un servizio aggiuntivo posso prendere il veicolo e portarlo in tutta Europa a costo zero purché il viaggio purché il costo del viaggio sia pareggiato almeno al costo del veicolo cioè il veicolo che è molto antico magari ha un valore di 500 euro da Parigi ad Otranto non me lo porteranno però diciamo una vettura normale che possa valere dei mille euro in su che penso sia quasi la stragrande maggioranza dei veicoli del parco circolante avranno la possibilità di farselo portare dal luogo di ferro a dove loro preferiscono in modo di tutto gratis questa è una cosa interessante perché certo io ho un guasto all'altezza di una provincia vengo recuperato e poi la mia macchina deve andare dal mio meccanico ecco quello volevo dirti proprio perché spesso e volentieri i clienti tendono a fidarsi solo del proprio meccanico specialmente su basti importanti sapere che tutto il viaggio magari è gratuito è una liberazione una certezza una tranquillità ecco beh questa è una cosa molto importante Paolo diciamo che adesso andiamo a chiudere questo pomeriggio che abbiamo trascorso insieme e soprattutto abbiamo dato delle importantissime informazioni che non diciamo che fanno riflettere perché la prima parte l'abbiamo dedicata alla parte assicurativa e anche se non ne vorremmo mai parlare ma il covid con noi si alza con noi vive con noi durante queste giornate avere però delle informazioni per non farci trovare sprovvisti proprio nel momento in cui la cosa dovesse accadere ci hai ovviamente illustrato delle ottime possibilità di far fronte a poi quelle che potrebbero essere delle spese non previste dalla nostra dalla nostra vita ecco e poi siamo passati per quanto riguarda il discorso acili a tutte e ovviamente le domande seppur semplici però molto 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 interessanti adesso in andiamo a chiudere con siamo alle porte del natale sì e ovviamente ci hai anche allora innanzitutto vogliamo fare gli auguri più grandi possibili a tutti i nostri clienti e a coloro magari ci sceglieranno da oggi in poi e vorrei concludere diciamo questo questo nostro incontro magari ricordando appunto che in questo momento abbiamo messo in piedi non starò qui certamente dire se non concluderemo mai abbiamo messo in piedi almeno due situazioni di estremo vantaggio per sia i nostri clienti che magari i futuri e lo speriamo e chiedo a loro di poter prendere contatti con la nostra agenzia che all'interno del pala cristallo via le trento 190 affermo e di poterci contattare perché abbiamo per loro delle sorprese interessanti per concludere diciamo meglio questo nefasto anno e venirgli incontro dal punto di vista non solo economico ma proprio di servizio quindi noi abbiamo studiato per loro delle soluzioni interessanti anche dal punto di vista economico ma poi paolo parliamoci chiaro ovviamente in virtù del natale ci siamo più dobbiamo essere più buoni ma soprattutto alcuni alcuni molti dei nostri radio ascoltatori potrebbero anche decidere di regalarsi un servizio sono d'accordo e saremo lì ad aiutarlo proprio per permetterglielo anche perché già hai descritto veramente la la vostra azienda come una una bellissima situazione di famiglia dove già questa immagine invita a farvi a farvi ovviamente visita lo speriamo lo speriamo che possa entrare nei cuori di chi ci vede per me pare così ma io sono di parte quindi in maniera molto molto lenta e il un ricapito telefonico allora il numero di riferimento dell'agenzia è 0 7 3 4 2 2 8 1 6 6 questo è il numero che collega entrambe le diciamo le attività con il la voce guida al codice 1 c'è sarà l'agenzia della sarà assicurazioni e al codice 2 c'è la delegazione alci allora a noi non resta altro che ringraziarti per preziosissime notizie grazie per aver scelto radio fermo 1 e cronache fermane per essere così vicino al nostro territorio perché è la nostra mission essere presenti ovviamente essere veicolo di informazione per tutti i nostri come lo è il nostro grazie davvero allora grazie e mi raccomando tantissimi auguri di buon natale a tutti e tutta la tua meravigliosa famiglia ricambiamo grazie mille grazie a tutti Grazie a tutti.